Qua la grilla di partenza in prima fila, abbiamo detto, occupata interamente dalle due Renault, pole position per Fernando Alonso seguito da Fisichella, seconda fila Raikkonen e Batten, in terza fila Montoya e Michael Schumacher, in quarta fila David Coulter de Rubens Barrichello, in quinta fila Ralf Schumacher e Weber, in sesta fila Massa e Trulli, in settima fila Pizzonia e Klien, in ottava fila Kartikeyan e Villeneuve, in nona fila Sato e Albers, in decima fila Monteiro e Dorbons. Bene, allora credo che ci sia...